Su! Le mostre speciali sono la mia specialità! Mi spiace che sia andata così! Mi spiace che sia andata così! Osserva Guido e impara! Mi spiace che sia andata così! 10 secondi rimane! 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... Osserva Guido e impara! 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 1... 5, 4, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 7, 1... 7, 1... 7, 1... 7, 1... 7, 1... 8, 1... 8, 1... Conserva qui e impara. Damage critical. Non devo farlo, ma è fuel. Ha, ha, ha! Get turned into the fuel class. 10 secondes remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Incoming enemies. Hostile targets identified. Grim and Acer. Damage critical. What a petito! No, I don't devo farlo, ma è fuel. Su! Su! Piace che sia andata così! Mi spiace che sia andata così! Damage critical. 10 secondes remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Hostile targets identified. Grim and Acer. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Così non va! Mi piace che sia andata così! Mi parte liquido! Mi piace che sia andata così! Mi parte liquido! Mi piace che sia andata così! Ah! Ah! Ma non devo farlo mai più! Ora festeggiamo! Meraviglioso! Just a little surprise for you! Osserva guido e impara! Su! Sono così felice! Mi piace che ancora! Damage critical. Eh no! Damage critical. Ehi, guardami che carino! No, non devo farlo mai più! Questo sì che è divertente! Osserva guido e impara! Ten seconds remaining. Spendiamo. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up.